Ciao bimbi, con la lezione di storia di oggi scopriamo come l'uomo ha scoperto i metalli dando fine al periodo neolitico e inaugurando l'età che viene chiamata appunto età dei metalli. Cominciamo subito. Come vi ho già spiegato la lezione scorsa, nel momento in cui l'uomo è diventato sedentario e si è inventato nuovi lavori, per esempio quello dell'artigiano, ha iniziato a sentirsi comodo, a sentirsi più tranquillo e a procurarsi tutte le materie prime di cui aveva bisogno, con l'agricoltura, con l'allevamento. È stato quello il momento in cui è nato il commercio perché si è sentita l'esigenza di barattare, cioè di scambiarsi merci in modo che tutti potessero usufruire dei beni degli altri. Nella vignetta vedete per esempio questa scena tra un allevatore e un agricoltore. L'allevatore dona la sua pecora all'agricoltore che in cambio gli dà della frutta e della verdura. L'idea è quella di avere ciò che manca all'altro. Il commercio è nato proprio per questo motivo. È in questo periodo storico che nasce la figura del mercante. Chi è il mercante? Il mercante per definizione è colui che esercita un'attività commerciale, cioè colui che scambia e vende merci che si procura andandole a prendere direttamente da chi le produce. Quindi il mercante cosa fa? Possiamo semplificare in questo modo. Va dal contadino, prende i prodotti del suo porto, li porta al mercato e li rivende. Quello che guadagna in parte lo tiene e in parte lo dona al contadino. Questo è un po' quello che fa un mercante, o almeno faceva in tempi passati. Sfruttava le vie commerciali, come vi ho detto l'altra volta, usando canoe lungo i corsi d'acqua oppure servendosi di animali da Soma, per esempio il mulo, per esempio il cavallo e così via. Ma arriviamo un attimo a dirci come sono stati scoperti questi metalli, perché poi è il succo della nostra lezione. Allora abbiamo detto che l'uomo si è inventato il mestiere di artigiano. Per cuocere la terracotta e quindi realizzare i vasi, l'uomo si era inventato delle forme rudimentali di forno, ovviamente non il forno elettrico che abbiamo nelle case, ma una sorta di camino dentro il quale faceva bruciare legna. Questa legna, producendo un grande calore all'interno del camino, cuoceva gli elementi che vi venivano messi all'interno, per esempio la terracotta. E beh, diciamo che l'uomo ha scoperto i metalli in maniera completamente casuale, come al solito, come le più grandi scoperte nella storia dell'umanità. Si è reso conto che alcuni tipi di pietre, che finivano magari accidentalmente dentro il forno, quindi in maniera casuale, si scioglievano, avevano dei comportamenti un po' strani. Vi faccio vedere che tipo di pietre. Due delle pietre che l'uomo si accorse, si scioglievano producendo degli strani effetti, erano lo stagno e il rame. Il rame forse l'avete già sentito nominare più di una volta, lo stagno magari vi fa un po' sorridere, perché una pietra dal nome stagno risulta un po' ridicola. Di fatto non è la pietra che si chiama stagno e nemmeno la pietra che si chiama rame, ma stagno e rame sono due minerali che troviamo all'interno di alcuni tipi di roccia. Si trovano in natura, sono proprio un fenomeno naturale. Ora non vi dico che voi uscendo di casa e scavando una fossa trovereste immediatamente delle pietre che contengono rame o stagno, ma ci sono delle miniere dalle quali si ricavano. Ecco l'uomo cosa si è accorto? Che sciogliendo, cioè facendo raggiungere un grande livello di calore a questi tipi di minerali, si scioglievano. Si scioglievano e cominciando a lavorarli, cioè a unirli, a fonderli tra loro, a vedere che effetti creavano, ottennero dei veri e propri metalli. Nel caso specifico del rame e dello stagno, noi oggi sappiamo con consapevolezza che la loro fusione dà vita a una nuova lega che si chiama bronzo. Il bronzo è stato utilizzato fin dall'antichità per realizzare tantissimi oggetti, per esempio le monete. Se ci fermiamo a riflettere un secondo, ci rendiamo conto che noi diamo per scontata la presenza dei minerali e la successiva fusione in metalli nella nostra vita oggigiorno, perché siamo circondati dai metalli, dal ferro, dall'alluminio, dal bronzo, dall'oro, magari più ricchi di noi, noi un po' meno, però insomma tutti conoscono l'oro. Pensiamo che è una scoperta antichissima perché risale a 7.000 anni fa, quindi l'uomo è veramente già molto evoluto 7.000 anni fa, pur vivendo ancora in maniera abbastanza primitiva, ma questa grandissima scoperta per noi oggi fondamentale risale addirittura a quell'epoca. Il vostro libro purtroppo parla genericamente dell'età dei metalli, però io vorrei spiegarvi che è stata classificata dagli storici in tre fasi, che si chiamano età del rame, età del bronzo, età del ferro. Ora guardiamo insieme un attimo questa mappa e cerco di spiegarvela. Cominciamo dall'inizio, età dei metalli, periodo, iniziò il passaggio dalla preistoria alla storia. Non siamo ancora propriamente nella fase che gli storici chiamano storia, perché la storia, ve l'ho già detto qualche lezione fa, comincia dall'invenzione della scrittura, ma è anche vero che il metallo inizia a essere un bene tanto prezioso che ci fa pensare che la società si stia evolvendo sempre più. Quindi abbandoniamo il periodo primitivo e iniziamo a parlare di un uomo che vive ormai in società, un uomo civile. L'uomo impara la fusione dei metalli, cioè a sciogliere i metalli, e a modellarli. L'età del rame si fa datare tra il 3500 e il 2300 avanti Cristo. Il rame è stato il primo metallo usato dall'uomo, perché è abbastanza facile da trovare e anche da lavorare, è abbastanza malleabile. Con il rame ha prodotto tantissimi oggetti, tra cui asce e pugnali, e questa bimbi è una delle scoperte, una tra le scoperte importanti del periodo. Prima di allora asce e pugnali, se vi ricordate, erano tutti prodotti di pietra. Con il rame vengono perfezionati entrambi gli strumenti. È sempre nell'età del rame, chiamata appunto del rame perché il rame è stato il metallo fondamentale, in cui si scoprono in realtà altri metalli, l'argento, l'oro e lo stagno, utilizzati tutti soprattutto per oggetti ornamentali. D'altronde anche oggi è difficile trovare un'ascia o un pugnale fatto d'oro. Con l'oro facciamo collane, bracciali, anche con l'argento. L'età del bronzo viene datata tra il 2300 e il 1200 avanti Cristo. Ecco perché ritengo che il libro sia stato un po' troppo frettoloso. L'età dei metalli non è iniziata dall'oggi al domani, ma se fate due conti, dall'età del rame all'età del bronzo sono passati circa 1200 anni. Quindi da quando l'uomo si è accorto che il rame era un metallo e che poteva utilizzarlo per i suoi strumenti, fino al momento in cui l'ha fuso con lo stagno e si è accorto che veniva fuori il bronzo, sono passati tantissimi anni, un periodo molto lungo, non una manciata di secondi. Ok? Il bronzo è una lega, vuol dire che si ottiene fondendo due minerali diversi, ed è più duro e resistente del rame, quindi l'uomo ha iniziato a utilizzarlo per produrre asce, punte di lancia, spade, insomma come sempre per produrre strumenti necessari alla caccia, ma purtroppo anche poi per la guerra. Si è arrivati intorno al 1200 a.C. a scoprire infine il ferro. Il ferro è uno dei metalli più importanti nella storia dell'uomo, fonde ad altissime temperature, vuol dire che per riuscire a manipolarlo bisogna arrivare a scaldare tantissimo il forno nel quale si lavora, ed è per questo che è stata una scoperta più tarda, perché comunque produrre temperature così alte in un forno non è scontato, non è così semplice. Il ferro è durissimo, è resistente, quindi ha permesso di costruire armi indistruttibili, che sono state utilizzate nella guerra e nella caccia per tutta la storia dell'umanità, praticamente. Le armi più recenti, diciamo quelle che funzionano con la polvere da sparo, quindi cannoni, pistole, rivoltelle, fucili, eccetera, sono un'infezione davvero recentissima, risalgono all'epoca della rivoluzione industriale, quindi le datiamo più o meno dal 1700 in poi, dopo Cristo. Prima di allora il ferro è stato sicuramente padrone indiscusso. Benissimo, siamo arrivati alla fine, vi chiedo di studiare le pagine del libro 176 e 177, facendo anche i due esercizietti che sono in fondo, ma vi chiedo di studiare questa ultima tabella, perché secondo me è molto importante che voi abbiate chiaro tutto questo periodo storico molto lungo di cui il libro non ha parlato. Ok? Quindi studiate, ve la fate conto che sia una pagina del libro. Ve l'ho approfondita io. Buon divertimento, buona fatica con lo studio e ci vediamo alla prossima volta.